Buonasera a tutti, continuiamo a vedere qualche rimedio naturale da utilizzare per la cura della scottatura leggera da sole o da eritema solare. Il rimedio omeopatico di solito che viene consigliato come primo pronto soccorso anche da tenere in casa è atropa bella donna. L'atropa bella donna è praticamente un piccolo arbusto caratterizzato da questa situazione. Atropa significa dal greco tagliare il filo della vita perché sta a ricordare che la bella donna ha dei frutti che sono delle bacche rossicce molto velenose e bella donna invece sta a ricordare l'utilizzo che ne facevano le dame nel rinascimento per colorarsi il viso come trucco estetico. L'atropa bella donna viene utilizzata in granule omeopatici tutte le volte che avete la pelle di colore rosso brillante scarlatto dopo per esempio un'esposizione al sole. È un rimedio completamente naturale, possono usarlo i bambini anche piccoli e anche le donne in gravidanza senza nessuna controindicazione. Per cui mi raccomando l'ideale è non scottarsi. In caso avete un leggero arrossamento potete utilizzare con tranquillità la somministrazione di 3-4 granuli a ritmi e intervalli durante la giornata più o meno lunghi a secondo del grado di rossore della vostra pelle. Arrivederci e buona serata.